Ciao a tutti, sono Federica. Ho appena ottenuto la mia certificazione C2 con Language Cert grazie alla scuola Moscati. Io ho seguito il corso che è partito a luglio con il responsabile delle certificazioni linguistiche, Giuseppe Turchiaro. Ci siamo trovati tutti benissimo, era una classe molto bella, eterogenea, perché ciascuno di noi aveva le sue debolezze, i suoi punti di forza, le sue caratteristiche. Tutti però ambivamo comunque ad aiutarci a superare questo ostacolo del C2. Chiaramente non è stato semplice, però il metodo del nostro teacher Giuseppe è la piattaforma, tutto il materiale che offre, tutti gli aiuti, supporti e gli stimoli che dà. Aiutano tanto a superare l'esame, a rimetterti in marcia e a rimettere in moto qualunque ingranaggio. Quindi è andato tutto bene, io consiglio tantissimo la scuola, consiglio il corso. Noi abbiamo fatto il corso online, però adesso ho visto perché chiaramente io la scuola Mollascati non la mollo più, perché sono un'insegnante che ha, come molti di voi, il desiderio di scalare la vetta della graduatoria. E quindi chiaramente ho visto che adesso partiranno tantissimi corsi anche in aula e quindi sono contenta e continuo a seguire la scuola. E consiglio a tutti voi innanzitutto di certificarvi con le certificazioni che sono più adatte a voi, in base alle vostre abilità, però crescerete. Perché io la prima volta che ho aperto la mia stanza Zoom per collegarmi con la mia classe di C2, ero super timidissima, parlavo veramente poco ed ero arrugginita. E invece oggi sono stata speditissima, ho superato tutte e quattro le abilità al primo colpo e quindi sono molto contenta. Ciao a tutti!